per tornare dove? per tornare a Regno per tornare a Regno ma col cazzo, volevo stare un po' di più ma chi era? 10 giudici? si, meno 10 metri lo sabato, non ciò di stare a casa non è vecchio si informano i titolari di abbonamenti intersicchie regionali di Trenitalia che è possibile i cari di legge di dignità secondo il modello di capo numero 106 2018 informazioni e limitazioni sono disponibili su www Trenitalia per essere principali agenzia di viaggio militare ho visto due corde ti aspetti, è venuto dalla squadra eh, ci mancherà guarda cosa è che tipo alla Brasile in mezzo dove si parla viaggio con il massimo della festibilità con il biglietto digitale e regionale acquistalo su Trenitalia.com e a Trenitalia e faccio check-in per viaggiare maggiore informazioni su Trenitalia.com sezione regionale per la prima volta spazio per la prima volta con il biglietto digitale e per la prima volta trovi con la possibilità con il biglietto digitale digitale regionale che il check-in va effettuato entro l'orario di partenza grazie grazie grazie